In questi giorni è montata una grande protesta da parte di molti comuni, soprattutto trevigiani. Io ho voluto, un paio di giorni fa, concretizzare questa lamentela inviando una lettera direttamente al Presidente Repubblica Mattarella. Una lettera molto chiara, circostanziata, con la quale esprimo tutto il mio rammarico e sdegno per il modo in cui si è attuata una legge, legge dello Stato, la legge 205 del dicembre 2017 che andava a ripartire un fondo pluriannale per interventi di adeguamento sismico dell'edilizia scolastica. Per il 2018 il fondo ammonta a 150 milioni di euro e poi progressivo per le annualità 2018 e 2019 a 300 e 400 milioni di euro. La legge era semplice, indicava come modalità di ripartizione di questo fondo un criterio che a volte viene adottato, vale a dire un rapporto tra il risultato di bilancio e le entrate, appunto bilancio di un comune, insomma chi aveva il miglior rapporto poteva essere destinatario di questi fondi. Bene, le domande sono state quasi 6.000. Abbiamo scoperto che con questi primi 150 milioni di euro sono stati finanziati solo 146 opere ma analizzando ancora di più come abbiamo fatto noi questa graduatoria, in realtà i comuni destinatari di questi fondi sono solo 54. È evidente che molti comuni hanno presentato più richieste, non come noi che riconoscendo le grandi richieste che sarebbero arrivate dal territorio nazionale abbiamo scelto un'unica opera anche perché siamo certi che nel momento in cui verrà finanziata noi la porteremo a termine nei tempi. Quindi i comuni solo 54 per una popolazione complessiva di 494.000 abitanti. Vale a dire questi 150 milioni di euro sono stati destinati allo 0,6% dei comuni italiani e allo 0,82% della popolazione italiana. Già qui qualcosa non torna. Poi, ancora di più, andiamo a scoprire che due anomalie. La prima che ci sono comuni che hanno avuto 7-8 finanziamenti arrivando a superare i 5 milioni di euro comuni con poco più di 1.000 abitanti, vale a dire 6.000 euro, anche 6.000 euro pro abitante. A Valdobbiadene questo significherebbero circa 65 milioni di euro di contributi e sono evidentemente eccessivi. Ma la cosa che ci ha fatto scandalizzare è che nell'applicazione di questa norma è stato fatto un grande errore. Vale a dire che quando si è considerato il risultato di bilancio come elemento di valutazione, in realtà alla fine sono stati premiati proprio quei comuni che si sono trovati in dissesto, vale a dire con un disavanzo, un risultato di bilancio negativo. Tutti questi 150 milioni di euro sono andati a comuni che praticamente sono in dissesto finanziario. Ecco che noi gridiamo fortemente che venga modificata la norma per le prossime normalità, ma che si intervenga già dal 2018 andando a ridefinire la graduatoria, escludendo i comuni che hanno avuto un risultato negativo, perché non è possibile che il comune di Valdobbiadene, dopo aver investito in questi tre anni più di 5 milioni di euro in adeguamento sismico ed edilizia scolastica, quasi tutti dalle proprie casse, avendo risanato il bilancio con un risultato positivo di bilancio, rinunciando a quasi tutte le altre opere perché la priorità è l'adeguamento sismico ed edilizia scolastica, ecco non è possibile non essere riconosciuti destinatari di questo contributo, ma vedere che questi soldi vadano a comuni in dissesto, che hanno anche 31 milioni di euro di sbilancio, negativo nel proprio bilancio, questo è intollerabile. Ho scritto Presidente della Repubblica, aspetto una sua risposta, ma sicuramente non finirà qui.